Oggi voglio parlarvi di uno dei miei animali preferiti. Non è il gatto, non è il cane, sono i gorilla. Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro Nicoletti, biologo marino e fondatore dell'associazione ecologista Keep the Planet. E oggi voglio parlarvi dei gorilla. Un genere di primati appartenenti alla famiglia degli ominidi. Insieme agli orangutan, agli scimpanzee, ai bonomo, sono gli animali geneticamente più vicini all'essere umano. All'interno del genere gorilla troviamo due specie, il gorilla orientale e il gorilla occidentale. Ogni specie a sua volta è formato da due sottospecie. Presenti in natura esclusivamente sul continente africano, sono animali dalle dimensioni notevoli. Raggiungono infatti un peso di circa 180 kg e un'altezza media di poco inferiore ai due metri. Nonostante l'aspetto imponente e nonostante il film King Kong, i gorilla sono animali pacifici e diventano aggressivi solamente se vengono attaccati, se si sentono minacciati. In natura, escludendo noi umani, non ha predatori, fatta eccezione per i lopardi, che a volte possono rappresentare una minaccia per i cuccioli. Passano la maggior parte della giornata a masticare rami e foglie. Sono infatti animali vegetariani. A differenza degli orangotango che svolgono una vita solitaria, i gorilla si raggruppano in famiglie organizzate, dove un maschio dominante protegge le femmine e i più piccoli. L'abitat ideale per i gorilla sono le dense foreste equatoriali dell'Africa centrale, dove riescono facilmente a procurarsi il cibo e la protezione necessaria. Purtroppo, tra i vari ecosistemi terrestri, le foreste dell'Africa centrale sono quelle a maggior rischio. Qui, infatti, la crescita demografica incredibile, importante e la devastazione del territorio a seguito delle attività umane stanno mettendo in serio rischio e pericolo tutte le popolazioni di gorilla. Non a caso, tutte le sottospecie di gorilla sono in pericolo critico di estinzione. E le cause sono sempre le stesse. Bracconaggio, perdita di habitat naturale a seguito della deforestazione e soprattutto l'espandersi delle malattie. I più numerosi sono i gorilla occidentali di pianura, la sottospecie che abita le foreste del Gabon, del Congo, del Camerun e della Repubblica centrale africana. Per oltre dieci anni, i ricercatori hanno intrapreso un lungo e difficile monitoraggio per stimare il numero di gorilla rimasti. Prima dell'indagine, si stimavano circa 100.000 esemplari. Ora, dall'analisi del territorio, dallo studio dei nidi e dalle nuove densità, pensiamo di trovarci un tesoro da difendere di circa 350.000 gorilla di pianura orientale. Un numero molto alto che all'apparenza potrebbe sembrare un'ottima notizia e farci restare tranquilli. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che i gorilla sono degli animali molto fragili. La frammentazione dell'habitat naturale e il contatto sempre più ravvicinato con gli umani, infatti, espone i gorilla a malattie come l'ebola, che sono capaci di uccidere anche il 90% dell'intera specie in pochissimo tempo. Pericolo sanitario che si somma all'ecologia e alla biologia del gorilla, che è un animale che si riproduce molto lentamente. Con femmine che impiegano 11-12 anni per raggiungere la maturità sessuale e partoriscono solamente ogni 4 anni. Non a caso, secondo gli standard internazionali dell'Unione per la conservazione della natura, inserisce tutte le sottospecie di gorilla nelle liste rosse per il pericolo di estinzione. I ricercatori hanno evidenziato che il singolo fattore più importante per la conservazione dei gorilla è la presenza delle guardie all'interno dei parchi nazionali. Nonostante sia vietato uccidere questi primati gorilla in tutti i paesi africani, non dobbiamo dimenticarci che il bracconaggio è una vera piaga che viene alimentata dalla crescente domanda di Carle Selvatica che arriva dalle città e dalla magia nera che utilizza parti di gorilla per i propri rituali. Un'altra minaccia che incombe sul futuro del gorilla di pianura occidentale è che solamente il 20% del suo habitat naturale è sotto tutela all'interno dei parchi nazionali. Qui infatti sono previsti dei piani di sviluppo che andranno inevitabilmente a deforestare ampe zone di foresta che ora è abitato dal gorilla. Totalmente diversa è la situazione dell'altra sottospecie del gorilla occidentale e cioè il gorilla di cross river che con soli 200-300 individui è prossimo alla minaccia. Si differenzia dal gorilla occidentale di pianura per la dentatura e per un cranio più piccolo. Vive solamente nelle foreste sul confine tra Nigeria e Cameroon. Le poche popolazioni rimaste sono isolate in piccole porzioni di foresta. Un importante sito di conservazione è il Parco Nazionale di Cross River un'area naturale di 4.000 km2 situato in Nigeria. Spostandoci verso est nel continente africano troviamo l'altra specie di gorilla il gorilla orientale. Tra le due sottospecie quella più numerosa con circa 3.500 individui è quella del gorilla orientale di pianura che vive nelle foreste equatoriali della Repubblica Democratica del Congo. Le popolazioni di questo primate sono in fortissimo calo perché la Repubblica Democratica del Congo di democratico ha solo il nome. La forte instabilità politica e sociale ha infatti bloccato tutte le attività di ecoturismo e di conservazione. Qui la povertà della popolazione e l'avidità delle multinazionali occidentali stanno devastando il territorio. Da una parte i locali deforestano per procurarsi il carbone per cucinare. Dall'altra le aziende sono alla costante ricerca di risorse naturali da depredare. Data l'instabilità del paese tutte le attività di volontariato ambientale, di ecoturismo, di conservazione sono bloccate. I ricercatori non possono più andare all'interno del confine della Repubblica Democratica del Congo per studiare queste specie, per diminuire le minacce di estinzione. Territorio che è spesso governato da vere e proprie bande armate che quindi impediscono ogni sviluppo sociale ed economico del paese che impediscono di fatto i viaggi naturalistici e le attività di conservazione. Scenario completamente opposto al gorilla di pianura orientale è l'altra sottospecie, il gorilla di montagna, la sottospecie sicuramente più famosa. Se nel 1980 si contavano solamente 250 individui sparsi tra le ultime foreste a cavallo tra Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, oggi le popolazioni sono finalmente ritornate a crescere con oltre mille individui stimati. Questa è un'incredibile notizia, un incredibile successo di conservazione che è stato possibile solo grazie allo sviluppo dell'ecoturismo. Nonostante il gorilla di montagna non sia una specie ancora fuori pericolo di estinzione, questa crescita che da 250 individui ci ha portato ad oltre mille esemplari in vita e in salute è un esempio incredibile che, se vogliamo, il volere è potere, che la conservazione, quando attuata in maniera rigorosa, i successi e i risultati arrivano. Questo ovviamente è stato possibile solamente grazie alla stabilità politica e sociale di due paesi chiave, il Ruanda e l'Uganda, che se in passato hanno avuto dei problemi sociali ed economici e politici, oggi, grazie all'ecoturismo e ai viaggi naturalistici, alla conservazione dell'ambiente e del territorio, ha visto le popolazioni di gorilla crescere e di creare al suo fianco una fiorente economia. Questi risultati li dobbiamo anche e soprattutto a Diane Fossay, la zoologa americana che ha dedicato la sua vita e anche la sua morte ai gorilla di montagna. Brutalmente assassinata nella sua cappanna sulle montagne del Ruanda, la ricercatrice, con la sua attività, dava fastidio a chi non aveva interesse a proteggere i gorilla. Anche grazie al suo sacrificio, grazie al sacrificio della sua vita, i gorilla di montagna sono diventati un'attrattiva naturalistica importante che ha dato vita a uno dei pochi successi di conservazione nel continente africano. Bene ragazzi, per questo video è tutto, ora sai qualcosina in più sullo stato di conservazione di queste incredibili specie, che sono i gorilla africani. Se ti piacciono questi argomenti, per favore iscriviti al canale, condividi il video e diffondi il messaggio Volere è potere. Da Alessandro di Keep The Planet per oggi è tutto, ciao!